Salve ragazzi, benvenuti alle barzellette del nostro amico Tom. Oggi Tom vi racconterà la barzelletta Pierino già furbo da bambino. Un amico confida Pierino con area di superiorità. Mia mamma dice sempre che da piccolo ero molto intelligente, a nove mesi pensa, già sapevo camminare. E Pierino gli risponde ridendo. E questo credi che sia un signor d'intelligenza? Io sì che ero furbo intelligente, pensa a quell'età mi faceva ancora portare in braccio.